Le voci sulla trattativa Lukaku-Celsi purtroppo si fanno sempre più insistenti e da quello che filtra sia da Milano che da Londra, la sensazione ad oggi purtroppo, il momento in cui sto registrando questo video, è che la trattativa alla fine verrà portata in porto e Romelu Lukaku quindi lascerà l'Inter per andare al Chelsea. Una trattativa che mi lascia molto 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 amaro in bocca come vedo che sta lasciando anche a tantissimi altri tifosi dell'Inter, lo stiamo vedendo sia sui vari social che anche nei commenti dei nostri video, alle nostre dirette soprattutto a cui vi invito a partecipare ragazzi perché poi queste sono ore molto frenetiche, vi portiamo anche tanti aggiornamenti in diretta e ovviamente vi diamo anche grande spazio con i vostri commenti e con le vostre opinioni. Gli orari li trovate qui che scorrono sotto di me e quindi appunto eventualmente vi aspettiamo in diretta, dove approfondirò e approfondiremo su Passione Inter la questione Lukaku, la trattativa, i dettagli eccetera, mentre in questo video quello che voglio fare, come avete letto dal titolo, è provare ad identificare tre motivi per cui si dovrebbe dire sì alla cessione di Lukaku al Chelsea e tre motivi per cui invece si dovrebbe dire di no. Ci tengo a dire subito una cosa, io ho cercato perlomeno di fare un'analisi il più oggettiva possibile all'interno di queste sei motivazioni diverse, ma non ho intenzione in questo video di dire è meglio l'una o è meglio l'altra. Io, come penso di avervi fatto intuire nell'introduzione, sono ovviamente molto amareggiato, ma ho cercato appunto davvero di immedesimarmi sia in chi sta dicendo vendiamolo, perché vi dico la verità, ne ho letti molti più di quanto me ne aspettassi, e ovviamente anche di immedesimarmi in chi invece dice no, Lukaku non è vendibile, non è da vendere. Quindi poi vi chiederò ovviamente nei commenti un'opinione, però analizziamo i vari punti senza dire ma cosa hai detto, ma cosa dici? In questo momento cerco di non prendere posizione. Prima una rapidissima introduzione. L'offerta decisiva del Chelsea, dicevo poco fa, non è ancora arrivata, l'ultima offerta ufficiale che è arrivata in casa Inter non è ancora, non ha ancora raggiunto la cifra che Marotta considera minima, e stiamo parlando di circa 130 milioni di euro, ma come vi dicevo poco fa, purtroppo la sensazione è che questo accada, anche perché il Chelsea, che vuole una prima punta, e lo sappiamo, incassato il no di Erling Haaland, di fatto non ha grossa scelta al di fuori di Lukaku, ovviamente in termini di rapporto qualità-prezzo ed età, perché ad esempio un altro nome che ho sentito dire è quello di Robert Lewandowski, giocatore fortissimo, ma che ha già la sua età e ha diversi anni in più di Lukaku, quindi attualmente al momento un giocatore che abbia la portata di Lukaku, la sua qualità e la sua età nel rapporto non c'è, e quindi incassato il no di Haaland, come dicevo, difficilmente ci sono tante altre alternative, e quindi la sensazione è che Roman Abramovic sia intenzionato a fare davvero di tutto, fare delle follie per raggiungerlo, e temo che alla fine ce la farà, purtroppo. Partiamo con i tre motivi per il sì, e vediamo un po' quali possono essere. Il primo che ho individuato è, penso il principale, quello che condividono immagino tutti, ovvero il fatto che incassare circa 130 milioni di euro cash per un giocatore classe 1993, quindi di 28 anni, sono effettivamente tantissimi soldi, qui al di là delle opinioni penso sia abbastanza oggettivo, che sono soldi che verosimilmente si farebbe fatica a, diciamo, riavere a disposizione di incassare anche nei prossimi anni. Un giocatore di 28 anni che non è quindi un giocatore come per esempio Hakimi, che è molto più giovane, e quindi effettivamente potrebbe apparire un po' come il treno che passa una volta sola, diciamo, e quindi giudicare in questo senso se conviene sfruttare l'occasione e incassarli oppure no. Naturalmente il secondo motivo è collegato a questo aspetto, perché incassare tutti questi soldi ti permette innanzitutto, anzi ti obbliga a dover trovare un vice Lukaku, un vice che in questo caso non significa una riserva, ma purtroppo significa un successore, quindi un giocatore che sia sufficientemente forte per poter, non dico rimpiazzarlo al 100% perché non è possibile, lo dicevo anche per Hakimi, lo dico anche per Lukaku, un sostituto effettivo di Lukaku non c'è, quindi bisognerà trovare il profilo ideale per prenderne il posto, ma questi 130 milioni ovviamente ti permettono anche di puntellare la rosa in una serie di altri ruoli e di altri profili che potrebbero far comodo. Il primo che mi viene in mente, per esempio, potrebbe essere Denzel Dumfries, che con tutti questi soldi in cassa non diventa più un obiettivo molto difficile e che quindi diventa un ripiego a Beyerin, che è molto più economico e raggiungibile, ma potrebbe diventare immediatamente il primo obiettivo per la fascia. Possono esserci anche altri profili, magari un altro centrocampista di alta qualità, magari un esterno sinistro se si trova il modo di piazzare Perisic, quindi sono soldi che di fatto ti permetterebbero di puntellare la rosa e qui naturalmente nel caso dovrebbe essere molto bravo Beppe Marotta a reinvestirli nella maniera ideale. Il terzo motivo non è una cosa, diciamo così, chiara ed eloquente, è quasi più una speranza che ho io e anzi una richiesta mi verrebbe da dire, perché ciò che io pretendo dalla società, non me lo auspico, io lo pretendo, è che se Lukaku dovesse essere davvero ceduto, l'obiettivo di Marotta e dell'Inter deve essere creare valore da questa cessione. In quest'ora sto sentendo tanti professionisti, tanti esperti di mercato che dicono il nome principale per il post Lukaku è Zapata, che vale, secondo l'Atalanta, 50 milioni di euro. Ecco, io mi auguro, davvero mi auguro, che l'Inter non ceda a questo tipo di situazione, perché pagare 50 milioni di euro, ovvero la buona parte della cifra che tu incasseresti per Lukaku, per un giocatore di 30 anni, per me non ha nessun tipo di significato, non ha nessun tipo di utilità. Cioè io accetto che mi si dica, anzi non lo accetto, ma posso capire, diciamo così, posso capire che tu mi dica, vendo Lukaku per 130 milioni a 28 anni e ti porto a casa tre giovani di 20, 21, 22 anni, che hanno delle ottime potenzialità e che possono diventare nel giro di pochi anni, non dico Lukaku, ma quantomeno un giocatore quasi di quel livello lì. Quindi l'obiettivo che deve avere l'Inter, secondo me, io lo ritengo davvero una cosa imprescindibile, ragazzi, è creare valore. Non è investirne 50 su Zapata, ma piuttosto se proprio investirli su Blaovic, per esempio, che è un altro nome che si fa. Arrivo a dire, piuttosto fate inserire Werner nella trattativa per Lukaku, che è un altro giocatore giovane. So che non piace a molti, ma è un esempio, cioè per far capire il tipo di profilo. Io gradirei centomila volte di più un Werner di uno Zapata, francamente. Quindi l'obiettivo deve essere creare valore. Se dovesse essere fatto, potrebbe tranquillamente questo essere considerato il terzo motivo per il sì. Veniamo invece ai motivi per il no. Il primo motivo che mi è venuto in mente, scrivendomi, diciamo, questa piccola scaletta di getto è la questione delle certezze. Tu, rispetto all'anno, tu Inter, rispetto all'anno scorso, hai perso Antonio Conte, hai perso Pintus, hai perso Riali, hai perso Hakimi, hai perso rischi di dover, rischi seriamente di perdere Eriksen. Sono già tanti, sono tantissime, tantissime certezze, tantissime persone, tra giocatori, staff, allenatore, eccetera, che avevano un'importanza davvero, davvero rilevante nelle dinamiche nerazzurre. Quindi, avendone già perse così tante, in questa situazione con Lukaku a disposizione, io posso credere che l'Intra possa effettivamente lottare ancora per lo scudetto. Perché secondo me, piazzando un esterno destro di buon livello, te la puoi giocare. Non lo vincerai di dieci punti come l'anno scorso o di più, ma te la giochi tranquillamente. Se perdi anche Lukaku, perdi l'ennesima certezza e perdi la certezza più granitica di tutte. Cioè Lukaku è proprio, qui mi sto già per ricollegare uno dei prossimi temi, ma mi viene naturale, è proprio l'Inter in questo momento. Cioè non è come perdere, con tutto il rispetto, De Vrij, non è come perdere Brozovic. Lukaku è un'altra cosa, è proprio una perdita che va al di là di questo tipo di... o meglio, va al di là dei discorsi più pragmatici, legati ai gol, a tutte quelle cose lì. È una cosa, diciamo, in più. E poi mi ricollego al secondo motivo, che è... Siamo ad inizio agosto, ragazzi. La trattativa è caldissima, è probabile che nel caso venga chiusa, venga chiusa nel giro di pochi giorni. Però io mi immagino, tra una cosa e l'altra, se arriverà intorno al 10 di agosto, più o meno, è abbastanza credibile come tempistica. Bene, al 10 di agosto mancherebbero 11 giorni, quindi una settimana e mezza, all'esordio dell'Inter in campionato e una ventina circa alla chiusura del mercato, in cui l'Inter dovrebbe prendere innanzitutto il sostituto di Lukaku, prendere un'altra punta, perché già ne si parlava prima, della quarta punta, e poi reinvestire un'altra parte di questi soldi, sull'esterno destro, lo dicevamo, magari su un esterno sinistro o su un altro profilo. Quindi sono tanti acquisti da dover fare in poco tempo e non sottovalutiamo anche il fatto che, come spesso si dice, gli altri club sanno che tu hai a disposizione a questa cifra. Quindi non è così realistico pensare che il PSV di turno ti dica, voi Dumfries prima costava 15, adesso costa 20 o 25. Voi Vlaovic per me vale 40, però te ne chiedo 50. Quindi rischi, tra l'altro, di, all'interno di un mix fra il poco tempo di esposizione e la necessità di dover fare degli acquisti, rischi di arrivare a strapagare dei giocatori che in condizioni normali non strapagresti. E questo non è un problema, se poi il giocatore rende effettivamente, come tutti auguri che renda, lo diventa se l'acquisto che fai floppa. Che quindi è un problema, perché floppa e quindi ci perde dal punto di vista tecnico. Ma poi se lo vuoi rivendere, il rischio è quello di tornare ai Jogomario e ai Gabigol, giocatori che tu paghi tantissimo e poi risultano del tutto invendibili. Il terzo motivo, e vado in chiusura, è quello a cui mi stavo ricollegando prima. Oggi Lukaku è l'Inter. Io l'ho detto anche nell'episodio di ieri, e ho insistito anche su questo tema. Oggi Lukaku è l'Inter. Non è solo 30 gol all'anno, non è solo un attaccante di formidabile qualità, prolificità, forza, eccetera, ma è un totem. Lukaku è l'emblema dell'Inter. C'è un murales fuori da San Siro in cui è raffigurato Lukaku. È un leader tecnico, è un leader ambientale, incarna dei valori positivi, belli, che anche l'Inter stessa come società condivide. È arrivato a Milano, non dimentichiamoci, come l'erede della maglia numero 9, del cattivo, del nemico Icardi, e fin da subito è entrato nel cuore dei tifosi. Si è proclamato re di Milano e lo ha dimostrato sul campo, stravincendo uno scudetto a suon di gol. In tanti comunque lo descrivono come un uomo che all'interno di Appiano Gentile ha anche lui il suo peso, o aiuta i giovani, aiuta i nuovi arrivati ad ambientarsi. Insisto, l'Inter non perde solo 30 gol. L'Inter perde un discorso, perde una figura che va al di là di questi gol. E soprattutto, l'ultima cosa che mi viene da dire, lui non ha mai negato, mai neanche una volta, si è tirato indietro dal fatto di dire che ama l'Inter, che ama questo posto, che è Milano, ama la tifoseria e ama la maglia. E quindi, almeno io la vivo così, quando viene ceduto un calciatore che oltre ad essere molto forte trasmette questi valori, per me il dolore è doppio. Non è solo per quello che vale dal punto di vista tecnico. E quindi, come dicevo prima, temo che la perdita purtroppo vada ben oltre i 30 gol che mediamente Lukaku è in grado di garantire ogni anno. Vi chiedo ovviamente un parere ragazzi nei commenti. Fatemi sapere se condividete questi motivi. Fatemi ovviamente sapere se siete a favore o contro la cessione. Fatemelo sapere con un pollice. Prima di scrivere il commento, mettete il pollice in su se siete a favore dell'addio di Lukaku o il pollice in giù se invece siete contrari. e poi ovviamente ditemi la vostra all'interno del commento. Per il resto vi invito ad iscrivervi al nostro canale YouTube. Vi rimando all'episodio di domani per quello che riguarda le notizie singole, ma vi rimando invece alle nostre dirette per tutti gli aggiornamenti e tutti i dibattiti che quotidianamente facciamo su YouTube dalle 19.30 alle 20.30 tutti i giorni su Twitch dal lunedì al sabato dalle ore 14 alle ore 15.30.